Uno spettacolo teatrale per ricordare il giorno della memoria, per Lampi è importante ricordarlo e trovare sempre forme nuove per farlo. Questo è immancabilmente, noi abbiamo un gruppetto che lavora proprio per cercare queste soluzioni, noi tutti gli anni cerchiamo di fare qualche novità nell'ambito del giorno della memoria, come il 25 aprile lo facciamo per i ragazzini, per delle scuole, il giorno della memoria vorremmo ricordarlo in maniera un po' particolare, speriamo che la gente ci segua e che partecipi anche lei a questa ricorrenza, perché è una cosa importante non perdere la memoria di questi periodi. I testimoni sono sempre di meno, diventa sempre più importante trovare proprio chi le racconta queste storie, magari in modo inedito. Certo, noi purtroppo qui a Valperga abbiamo perso con il Presidente Frasca l'ultimo partigiano e pertanto in questa zona qua penso che soltanto Cournier e forse Rivarolo abbiano ancora qualche testimonio reale che ha vissuto quelle giornate. Noi purtroppo quelli come me li hanno vissuti da ragazzini, non partecipando sicuramente a queste battaglie per liberare questo nostro paese. Come nasce questo spettacolo e perché? Nasce per il mio volere, ho letto la biografia di questa meravigliosa donna e ho chiesto di scrivermi questo testo ed è nato per un mio desiderio. E poi ho avuto occasione di incontrare e conoscere la figlia Denise che sentirete nominare durante lo spettacolo a Pordenone quando ho presentato il libro della sorella Elisabeth, è mancata diversi anni fa per un brutto male e lì mi sono convinta ancora di più che doveva essere portata in scena la vita di Ren e farla rivivere in una qualche maniera, senza aver la presunzione di poter essere lei o semplicemente di renderla in qualche maniera giustizia. È difficile dare forma a un testo come questo? Sì, allora fino al momento in cui ho incontrato Denise non ci avevo pensato in realtà a quanto potesse essere difficile o comunque quanto potesse in realtà coinvolgermi in maniera personale. In realtà quando poi ho conosciuto Denise, ho visto questo esterino piccolo piccolo di 80 anni che beveva caffè e fumava sigarette e nel frattempo guardava il mio spettacolo su video e ho capito ma io ho la presunzione di portare in scena la mamma di questa donna e allora lì è scattato qualcosa, qualcosa che va oltre il teatro, che va oltre il desiderio di portare in scena un testo, che va oltre la recitazione. È diventata una forma di rispetto verso di lei, verso il suo essere, verso quella che è stata e verso le figlie e verso l'amore che hanno avuto le figlie nei suoi confronti che ha fatto sì che la madre potesse rinascere, rivivere perché era caduta completamente nell'oblio Irene Mirowski dopo la seconda guerra mondiale. E loro hanno ritrovato questa valigia che era stata lasciata appunto dalla madre dove appunto raccontino loro, pensavo fosse una cappelliera, c'era un libro che era suite francese ed era il libro incompiuto di Irene Mirowski che stava scrivendo in un libro che poi è stata deportata e hanno deciso di far sì che la madre potesse rinascere attraverso la sua scrittura che è la cosa principale quindi al di là di quello che è successo questa donna va ricordata per i suoi scritti, per quello che lei ha lasciato ai posteri come scrittrice, come donna. Uno spettacolo che ruota quindi attorno a una macchina da scrivere. Esatto, una macchina da scrivere, una valigia che è la valigia che lei ha lasciato alle figlie Elisabeth e Denise ha pochi oggetti, è teatro di narrazione, ha una scala, piccole cose ma fondamentale è questa che è l'essere di Irene.